Le sorprese, per i fan di Romina Power, non finiscono mai. La signora della musica italiana ha sempre in serbo qualche novità da tirare fuori dall'archivio segreto che mostra lati sconosciuti del suo passato, come in questo caso. Anche se ha raggiunto un livello di celebrita tale che potrebbe permettersi di sedere serenamente sugli allori, a Romina Power il rapporto con i propri fan piace davvero troppo per smettere. La cantante, che ha coperto con la sua voce e con la sua eleganza almeno quattro decenni di storia della musica e della televisione italiana, continua a offrire ai suoi seguaci chicche e curiosità. Specialmente da quando, attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale, può quadrato comunicare direttamente con loro. Romina, una mamma molto, speciale. Ci sono molti modi per immaginarsi Romina Power quando si parla di lei. C'l'artista, che insieme al marito Albano ha regalato al pubblico alcuni dei brani più ammemorabili della nostra storia. Da felicità a nostalgia canaglia fino a ci sarà, quanti ricordi legati alle evoluzioni canore delle ugole di Albano e Romina. Ma c'è anche la presentatrice, l'interprete e, soprattutto, la donna. Una madre esemplare, segnata nel dolore della perdita della figlia Ilenia, scomparsa negli Stati Uniti ormai tanti anni fa. Una madre, dicevamo. Ma da oggi, grazie ad un tenero scatto postato su Instagram, i fan di Romina sanno che oltre che una mamma, umana, la loro beniamina stata anche la mamma di una nidiata di uccellini che avevano perduto la madre. Lo scatto è stato accompagnato da una simpatica didascalia, una foto di qualche anno fa quando, a volte, facevo da mamma ad uccellini caduti dal nido. Uno scatto di grande dolcezza, che i fan di Romina Power hanno sinceramente apprezzato. Vedi anche, maggiore. Vedi anche, maggiore.